In mezzo a verdure e scatolette di tonno c'erano i sacchetti con la droga. Un 44enne di Forlì è stato arrestato per trasporto, detenzione e spaccio di stupefacenti grazie all'attività congiunta di squadra mobile e volanti della questura. Sabato pomeriggio i poliziotti stavano effettando un pattugliamento quando hanno notato una BMW bianca che procedeva ad alta velocità lungo la 27. Il conducente si è fermato per un paio di minuti al casello insospettendo gli agenti che gli hanno intimato l'alt appena fuori dalla barriera. A quel punto sono scattati tutti i controlli del caso. L'uomo alla guida, già noto alle forze di pulizia per alcuni precedenti, era in auto con la compagna una 61enne residente nel Bellunese. In mezzo ai generi alimentari riposti in alcune buste della spesa c'erano due sacchetti contenenti 106 grammi di marijuana ciascuno. Inoltre durante le perquisizioni personali sono spuntati un sacchettino con dentro 27 grammi di cocaina di ottima qualità e un altro più piccolo con un gramma e mezzo di eroina del tipo brown sugar. In totale in quell'auto c'erano 5.000 euro di stupefacenti. La droga è stata sequestrata e per il 44enne forlivese è scattato l'arresto. La donna che era con lui è stata denunciata a piede libero. Sequestrati anche l'auto, i telefoni cellulari della coppia e alcune banconote. Con la collaborazione della questura di Forlì è scattata anche la perquisizione a casa dell'uomo residente a Forlì in Popoli. Lì è venuta una scoperta ancora più allarmante. Oltre a 50 grammi sparsi e un rametto di marijuana sono state trovate anche diverse bottigliette di metadone con i nomi degli assegnatari abrasi. Ovvero il farmaco per la disintossicazione doppiacei era finito in mano allo spacciatore che potrebbe averlo comprato da alcuni utenti del servizio dipendenze per rivenderlo essendo lo stesso farmaco un derivato dell'oppio. Ieri il processo per direttissima. Il 44enne è stato costretto agli arresti domiciliari a Forlì in Popoli.